Finalmente sei arrivata Fere, ci sta aspettando Matteo! Allora, praticamente... Che dobbiamo fare, Steph? È stato avvistato un villaggio sotterraneo super segreto da alcuni minatori. Non capisco se è davvero vero, ma quest'oggi ci siamo preparati con Matteo per far esplodere tutto e scoprire se c'è davvero qualcosa lì sotto. Ma scusa, allora questa è la parte più bella, Steph? No. Dobbiamo far esplodere tutto! No, la parte più bella sarebbe trovare un villaggio segreto sotterraneo, Fere, senza ombra di dubbio. Ma io voglio far esplodere tutto! Andiamo, 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 andiamo. Buongiorno Matteo, buongiorno. Scusi Matteo, siamo qui? Ok, spesso io. Magari non ci aveva visto, Steph. Ciao, Steph il Magnifico! Grazie per essere venuti ad aiutare e partecipare a questa operazione mineraria. Siamo lieti che voi possiate assistere alla grande esplosione che partirà. Esplodioni, sì! Sembra fantastico. Sembra fantastico. Sono felice che siate entusiasti. Abbiamo già preparato la TNT e l'esplosione. Tutto ciò che deve essere fatto è posizionare questa leva su quella lana rossa e l'esplosione partirà. Assicuratevi di stare dietro il bunker e di osservazione. Non voglio che nessuno si faccia male qui. Ok, quindi anche molto pericolosa la cosa, il che la rende molto più bella, Steph. Fammi vedere un po'. C'è l'elmetto da cantiere, il piccone e anche delle scale. Fer, hai preso tu la leva, vero? No. Fer, vai, puoi farlo. Finalmente, Steph! Mettiti l'elmetto! Finalmente! Fer, è pericoloso. Stai rovinando il momento, Steph. Non è divertente. Devo andare dritto a fare le cose. Stai rovinando il mio momento. Allora, lo vedi quanta TNT c'è? Appunto! Capisci che è pericoloso? Molto felice, Steph. Vai, metti sta leva. Allora, inserire chiave di detenzione qui. Ok. Premo. Vai. Sei pronto? Sì. Sei al sicuro? Sì. Vado. Ok. Sto partendo, Steph, sto partendo. Oh mio Dio, guarda! Oh! Che bello. Che bello, che bello, che bello. Ok. Andiamo a sbirciare. Vediamo se abbiamo scoperto qualcosa. Aspetta, aspetta, aspetta. Controllo che non ci sia altro TNT che deve esplodere. Piano, eh, piano. Ok, siamo tutto a posto. Mi raccomando. Penso che sia tutto finito e che sia tutto a posto. Ok. Vede. Oh mio Dio, Steph. C'è qualcosa? Oh mio Dio. Ma che cos'è questo posto sotto terra, Steph? Vede. È un villaggio davvero? Ma guarda gli alberi, che strani. Ho notato. C'è davvero un villaggio? È noto anche dei villager, Steph? Sì. Che facciamo? Ma se poi sono ostili? O Oldan, mi pare. Sì, sì, sì. Uno si chiama Oldan. Eh, come fai a leggere il nome da qui? Accidenti, Steph. È visto, eh? Che pista che è, se è un falco. Ti dicevo, ma se poi sono ostili e scendiamo e ci uccidono? Ma no, i villageri non sono mai ostili. Il discorso è... Eh, non si sa mai. Come scendiamo? Con le scale. Eh, ma dove le piazzo? Eh, eh, sarà difficile, Steph. Oh, cavolo. Eh, te l'ho detto. Eh, cavolo. Beh, certo, non è previsto, secondo me, che noi scendiamo a disturbarli, comunque. Sai che io ho un'altra idea? Non penso che sia previsto. Quale? Diciamo che l'elmetto non mi salverà, se sbaglio. No, no, Steph, non ti lanciare! Ok. Aspetta. Ha funzionato. Ok. Perfetto. Scusate, scusate, scusate. Siamo cascati accidentalmente, non volevamo. A Polito. A Polito. Il pescatore. Ok. Torna a pescare, quindi ci ignora abbastanza. Va bene, è un pescatore. Vediamo l'altro, vediamo l'altro. E questa si chiama Tanal. Tanal il contadino. Ok? Il fischietta, quindi si sta facendo gli affari suoi, giustamente. Ok, quindi prevalentemente ci ignorano. Ferri, abbiamo un po' sporcato. Raccogli un attimo tutto, che se no qua, secondo me... Mi dispiace rovinare. Raccogli tutto. Sembra fantastica questa città, Steph. Guardati intorno. Io non ho mai visto questi alberi. Oh, cavolo. E' un albero di diamante questo? E' un albero di glowstone? E' questo di smeraldi? Guarda, smeraldi, oro. E c'è di qualunque materiale. Ma c'è di qualunque materiale. Mi sa che abbiamo trovato un villaggio più particolare del fatto che sta sotto terra e basta. Mi sa che qua, non secondo no. C'è qualche altro segreto. Un bel segreto, Steph. Comunque, se guardi la struttura del villaggio, a parte che ci sono minerali rari ovunque, il che mi fa pensare che sono davvero ricchi. Ma se noti, All Done, quello che io avevo notato, è un po' più in alto di tutti gli altri. Sta in una struttura un po' più interessante. Quindi magari questi due ci hanno ignorato perché sono dei semplici villageri. Ma magari lui è il capovillaggio. Andiamo a vedere. Quindi potremmo andare a provare a parlare con lui. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo, 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 andiamo. Quindi si chiamava All Done. Ok. All Dam. All Dam? Con la M, sì, lo vedo da qui. Pensavo fosse una N. No, è All Dam. Capovillaggio. Ok. Capovillaggio. All Dam, salve. Siamo degli avventurieri che hanno scoperto il vostro villaggio. Sembrate molto ricchi e sono abbastanza curioso. Oh, accidenti, siamo stati scoperti. Ma va? Eh, già partiamo male. Dopo tanti anni passati a nasconderci, siamo stati trovati da un'altra civiltà. So che avrete un sacco di domande. È certo che ce le abbiamo. Beh, sì. Ma dovevate considerarla una falla nella vostra idea? Io ho la prima domanda. No. Mi date i semi dell'albero di diamanti? Sai com'è? Voglio diventare ricca. Non posso fare questa domanda a te? Perché no? No, 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 no. Io volevo. Posso picconare l'albero con l'ascia, l'albero di diamanti? E anche, Fede. Ma ricrescono da loro, Stef. No, perché poi per un albero fatti di diamanti serve il piccone o serve l'ascia? In effetti. È una bella domanda. Comunque, non mi interrompere. Stavo dicendo che non può sorprendersi di essere stato scoperto se basa la sua copertura nel stare sottoterra su Minecraft che chiunque scava ovunque, Fede. Cioè, non aveva molto senso. Quindi è normale che prima o poi qualcuno lo scopre. Poverini, Stef. Loro magari erano convinti di essere sicuri. Non è che dobbiamo prenderli in giro. Vediamo un po' le domande. Allora, lasciatemi spiegare. Oh, mamma mia, Fede, è una storia lunga. Oh, cavolo. Uff, mi preparo. Ma aspetta, forse era da tanto che non vedeva qualcuno che gli ha voglia di chiacchierare. Che ne pensi? Mi sa che non è tanto triste che l'abbiamo beccato. Allora, vabbè. Eh, sì. La storia inizia a migliaia, addirittura, migliaia di anni fa. Addirittura. La mia gente ha trovato questa caverna ricoperta dalle ricche risorse che vedete qui oggi e dagli alberi su cui crescono diamanti e smeraldi, che ogni uomo brama per le proprie ricchezze. Questo è vero, io la prima. Fede non è un uomo, ma le brama più degli uomini, quindi mi spiace, ha trovato qualcuno ancora di peggiore. Ma è scritto un uomo in generale. Non so, è rinunico. Poi non darmi dell'uomo, scusa. Il mio popolo si stabili qui, giurando di vivere con uno stile di vita umile e pacifico, lavorando solo per preservare la bellezza naturale di questo luogo e tenerla al sicuro fino al giorno in cui l'uomo l'avrebbe scoperto. Quel giorno è oggi. Eh, certo. Siamo un gruppo pacifico, non vogliamo combattere e desideriamo solamente vivere in armonia e preservare la nostra casa. Spero che capirete. Allora, ma certo che capiamo, oppure sembra stupido. Beh, io sinceramente capisco. Ma secondo me ha senso, cioè ok che non hanno fatto la cosa generale del secolo mettendosi sottoterra, anzi forse sarebbero dovuti andare ancora più in profondità per evitare di essere scoperti così facilmente. Esatto. Se noi avevamo sentito queste voci di un villaggio sotterraneo e le abbiamo trovato molto facilmente. Vabbè, ma certo che capiamo. Cioè, li compatisco in un certo senso, mi fanno tenerezza, dai. Grazie per la comprensione, c'è solo una cosa, non, e lasciatemi sottolineare, non entrate nella mia casa. È la mia umile dimora privata con niente di speciale, quindi per favore non entrate. Ok, cioè, anche io mi darebbe fastidio se qualcuno mi entra in casa, quindi sinceramente va bene. Vi ringrazio. Ok. Allora, Steph. Dimmi. Guardiamoci negli occhi, no, aspetta, vieni che se non ci ascolta, vieni, 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 vieni. Ok, sì. Abbiamo capito che l'unica cosa che dobbiamo fare è entrare in casa sua. Fare. Questa è la prima cosa che tutti hanno capito. Cioè, qua anche i consulini stanno urlando, entra, te, entra, te, capito? Sì. Perché è ovvio, se uno ti dice non andare vuol dire che l'inghippo di tutta questa storia è proprio lì, Steph. Ma scusa. Dai, è la base di qualsiasi film, di qualsiasi storia, Steph. Ma prima dici che li comprendi e li compattisci e poi li vuoi entrare in baita senza permesso. Allora, sì, però noi oggi stiamo vestendo i panni di esploratori, Steph. Gli esploratori devono portare a termine la loro missione. No, hai scoperto un villaggio segreto, meraviglioso, che è bellissimo da preservare, basta così. Sì, ma capisci che c'è qualcosa di strano. Fere, lo potrei chiamare il villaggio di Steph e Fere, perché l'hai scoperto tu. Gli esploratori danno il nome che vogliono alle cose. Ma no, no. Quindi ci torniamo a casa, diciamo la scoperta e sono tutti felici, senza distruggere le case frui. Allora, Steph, mi è venuta l'idea del secolo. Ok. Tu lo distrai e io entro. Ma mi stavi ascoltando? Ti piace, Steph, come idea? Ma mi hai ascoltato? Vado a prendere l'albero di diamanti, allora. No, 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 l'albero è peggio per me. Allora, aspetta. Oldham, da noi c'è una tradizione che praticamente i nostri amici li mettiamo un po' di terra in faccia, ok? Nulla di particolare. È soltanto una tradizione nostra particolare della civiltà che tu ancora non conosci. Imparerai presto che tipo di persone brutte siamo. Ok, Fere. Meno male che non siete mai stati a contatto con altre civiltà. Magari gli potevano capitare delle persone gentili, invece gli siamo capitati io e te, Steph. Vai, tu. No, io non sento nulla. Ma è blindata la porta, Steph. Fere. Eh. È questo. Allora, devo distruggere. Ma io volevo entrare sneaky sneaky, non distruggere la porta di casa. Ma poi li ha, rimetti. Tanto lui verrà solo la terra al momento. Ok. Ok. Vieni. Aspetta, 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 aspetta. Entra. Ok. Fere, è un po' strana. Cioè, non sembra l'entrata di una casa. Allora. È super buia. Noto che c'è della lana nera tutto intorno. Però aspetta. Eh. C'è una leva. Vado? Vai. Fere. Ma è qui il vero segreto. Non è il villaggio. Oh mio Dio. Ma vive circondato di oro, diamanti e smeraldi. Ma Steph, qui c'è qualcosa che non va. Mi sa che l'avido uomo che brama ogni ricchezza è lui, eh. Eh, mi sa di sì. Anche perché. Mi sa che stava prendendo tutte le ricchezze per tenersela per sé qui, Steph. Tensuali parole. Sue. Ok. Ha detto, è soltanto la mia umile dimora dove non c'è niente di speciale. Alla faccia dell'umile. Cioè, anch'io vorrei una casa umile se fosse così, Steph. Cioè, la prossima volta mi prendo anch'io una casa umile. Cioè, che ne pensi? Sono un po' sbalordita. Perché comunque si sono posti in un certo modo. Sai com'è? Sì. Allora. E vedere tutto questo un po' mi spiazza. Mi viene da dirti. Con quello che pesca è basta. E penso solo a pescare. Quello che fischietta è basta. Non si accorgono di nulla. È normale che c'è uno che si prende tutto l'oro. Beh, certo. Loro sono convinti di avere i loro compiti. Poi comunque sono pochi. Chi è che va a frugarli in casa? Capisci? C'è un'altra leva comunque, Steph. No, però questa è per aprire la porta. Ah, giusto. Scusa. Non sei molto furbo. Pensavo che servisse. Ma cosa vuoi fare? Vuoi rubare tutto? Boh. Che dici? Io qualcosa da ruberei, sai com'è? Vero. Come souvenir, Steph. Ok. Almeno un po' mi sembra più che giusto. Io penso ai diamanti, Steph. Non puoi. Perché? Perché abbiamo un piccone brutto. Ma li sto prendendo. Guarda. Ok. Il blocco me lo dà. Poi sì, bisogna trasformarli, però me lo dà. Ruba, 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 ruba. Tutto... È per piccone in ferro. Non è così brutto, eh. Tutto soltanto un po'. Rubiamo? No, un pochino, Steph. Dai. Ok. Io ho quattro blocchi. Tu quanti mi stai anche esagerando, cavolo, Steph. Beh, ormai la facciamo bene, no? Cioè, scusami, eh. Un po' mi sento in colpa, però. Ma cosa? Cioè, alla fine era solo un povero villaggero che voleva raccogliere le cose e imbrogliare tutti. Dai, che ha fatto di male, Steph? Noi stiamo facendo lo stesso. Stiamo imbrogliando lui a nostra volta. Ok. Io direi che possiamo andare. Che dici? Io ho cinque smeraldi e cinque... Eh, quanto è esagerato, Steph. Andiamo. Accidenti a te. Basta così, basta così. Ok. Allora, risaliamo. Fere. Togliti, Steph. Prima le signore, scusami. Ok. Perfetto. Ah. Ah. No. No. Ok. Dobbiamo rirompere. Pa, 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 pa. Tutto a posto. Tutto a di nulla, rimettiglielo. Ok. Facciamo così. E adesso. Ok, Oldham, finalmente è finito il rituale per essere amici. Adesso è tutto a posto. Possiamo tornare a guardarci anche negli occhi. È stato davvero interessante. Come ci ha detto, appunto, abbiamo rispettato la cosa di andare a casa. a casa sua, perché noi siamo persone che rispettano le richieste altrui. Quindi, rimaniamo qua. Siamo più che felici di conoscervi come civiltà. Andremo a chiacchierare con quello che fischiate, quello che pesca e basta. Magari ci mettiamo a pescare anche con lui, no? Esatto. Facciamo amici. Eh, direi che possiamo andare, è vero? Grazie di tutto. Grazie. Anche se non c'è dato nulla, sei stato comunque gentile e cordiale. Giusto? Io ruberei anche un albero, Stef. Fede, no. Albero. No, no, quello ci vede. Un blocchetto. E in alto ci vede. E cavolo, e lì c'ha capito? Il sovrano di sto posto, che è lì sopra, che guarda il popolo. Come? E andiamo via. Bella domanda, Stef. Con delle scale facciamo una cosa dritta e poi scaviamo sulla terra, no? E allora conviene da dove lui. Ah, beh, sì, perché partiamo già in alto, hai ragione. Scusami, Oldham, e dobbiamo... Eh, non avete fatto un modo comodo per tornare a superficie? Siamo costretti a farci delle scale al volo. Già. Allora, aspetta, eh. Sistemiamo tutti i nostri problemi. Mi stai seguendo, Ferre? Sì, vabbè, non l'hai ancora presa delle scale, aspetto che le finisci. Ok, vai, 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 vai. Ok, eccomi qua. Ok, poi così. Poi, allora, se buco qua... Porca miseria, sono lentissimo. Oh, cavolo. Ce l'ho fatta? Ok. Adesso, tutto verso l'alto, scala. Perfetto, perfetto. Togliti, togliti, se non ci sto. Ok, vai, metti scale, metti scale. Mi hai fatto cadere. Eh, te l'ho detto che si cade, è un disastro. Aspetta, 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 mi sposto qui, vai, vai, se non ci stiamo. Ok. No, stiamo buggando tutto. Ok. Ok. Ce l'hai fatta? Più o meno. Aspetta, aspetta, è un po' buggato, Steph. Vieni, Fere. Come hai fatto a prendere le scale? Mi bloccano. Aspetta, facciamo così. Dimmi che ce la fai. Ok. 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 Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo lasciato il villaggio. Oldham e i suoi due amici. Abbiamo fatto un bel bottino. Penso che poi qui dovremmo ritappare tutto. Perché? E non far notare a nessuno quello che abbiamo trovato. Per tornarci a rirubare? Eh, sì. Non è male. Magari facciamo pure anche Matteo che ha visto tutto, no? Che ne pensi? Aspetta, 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 aspetta. Matteo, allora, ormai siamo amici perché abbiamo fatto un ottimo lavoro. Quindi stiamo facendo il rituale dell'amicizia. Ti lasceremo qui per un po' di tempo. Mi raccomando, con i vostri amici, quando li incontrate, riempiteli di terra. Tranquillo, torneremo. Il rituale dell'amicizia, questo. Torneremo, te lo prometto, Matteo. Tu resta lì e ci rivediamo fra un po'. Faremo in modo di farlo licenziare. Più tempo passa, più diventiamo amici. Quindi è ottimo restare lì e avere tanto tempo. Ne vale un sacco la pena. Comunque il villaggio era bruttissimo, non c'era nulla di che. No, si è stata una delusione, Matteo. Soprattutto perché io ho paura anche che possa arrivare magari qualche mostro strano. Quindi ritappiamo tutto anche per la tua sicurezza. E ce ne torniamo tutti a casa. Ciao, Matteo. Ci fermiamo così con questo video. Ovviamente questo villaggio e tutte queste cose sono state costruite dal nostro assistente segreto. Che da ora in poi sarà un po' meno segreto. Perché si è aperta una pagina Instagram. Quindi se volete andare potete seguirlo. E mi ha già detto che vuole mettere, ok, delle piccole anteprime delle mappe che crea per noi. Quindi potrete vedere un pochino prima cosa dobbiamo fare. Cosa dobbiamo andare a provare, eccetera, eccetera. Ne vale assolutamente la pena. Lasciamo in descrizione il link del suo Instagram. E ci fermiamo così.